ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale pasco perlinosa 21 e ora disponibile a tutti progetto misterioso e progetto veramente tanto atteso perché tanto atteso e misterioso perché se non siete iscritti al gruppo facebook di perline fantasy andate subito a recuperarvi questa edizione perché è stata pazzesca ci siamo divertite veramente tantissimo ci sono dei video che fanno morire dal video delle dirette pazzesche commenti pazzesche ragazze io veramente noi vi ringraziamo di cuore per la vostra partecipazione e per tutto questo percorso che abbiamo vissuto insieme brevi ma intenso sette giorni sette aperture speciali e quindi termina qui la nostra pasqua perlinosa 21 ci vediamo con la prossima edizione adesso io vi lascerei proprio al tutorial perché sarà veramente lunghissimo spero vi piaccia ci vediamo alla fine del video eccoci qua ragazze iniziamo subito e dico subito proprio perché questo tutorial sarà davvero lunghissimo creandoci la parte del nostro cofanetto quindi la base la base che sarà composta dalle gem duo che avete trovato all'interno delle vostre ceste perlinose sono circa 30 grammi le rocaille 11.0 e le perle da sé che ci serviranno per chiudere sia nella parte alta che nella parte bassa ora che cosa facciamo iniziamo subito a realizzare tutta la parte solida del nostro cofanetto mi raccomando unica precisazione che ci tengo a darvi un consiglio non utilizzate il filo fireline o il miyuki ma utilizzate un nylon questo perché perché aiuterà appunto a rendere solida la base e in questo modo avremo un cofanetto stabile e solido quindi passiamo subito all'opera il primo passaggio sarà proprio questo inserire sul lago una rocaille 11.0 una gem duo una 11.0 così per un totale di 4 rocaille 11.0 e 4 gem duo dopodiché andiamo e chiudiamo a cerchio quindi facciamo scivolare le nostre perline e andiamo a chiudere a cerchio questa è praticamente tutta la parte della tecnica del ro dopo aver chiuso a cerchio che cosa facciamo ci spostiamo con il filo nella parte alta della nostra perlina della gem duo vedete che io sto uscendo proprio da qui in senso opposto ora che cosa facciamo praticamente proseguiamo semplicemente con la tecnica del ro ma attenzione ora sicuramente voi questa tecnica la conoscerete tutte ad ogni modo se qualcuna ha delle difficoltà ci sono diversi tutorial anche sul canale di tiziana campagna ci sono anche delle dirette sulla nostra pagina facebook che potete potrete appunto tranquillamente andare a consultarvele e in modo tale da rinfrescarvi la memoria tornando al nostro tutorial che cosa andremo a fare usciamo semplicemente da una delle rocaille gem duo insomma da dove preferite e ci spostiamo con l'ago sul foro alto della nostra gem duo quindi vedete io mi sono spostata all'interno di questo foro qua sono uscita da qui e che cosa ho fatto inserito semplicemente una rocaille una gem duo una rocaille una gem duo così per un totale di quattro rocaille e tre gem duo ora che cosa andrò a fare semplicemente andrò ad inserirmi vedete nel senso un posto rispetto a dove sono entrata quindi quindi questa è praticamente ciò che la tecnica del pro ecco qua vedete si crea sempre questo fiorellino questa roccia insomma chiamatelo chiamatelo come volete per inserire il prossimo modulino che cosa facciamo vedete io mi sono spostata con l'ago esco da questa parte qua da questa gem duo qua quindi dalla seconda che ho inserito nella parte bassa quindi che cosa dovrete dovrete fare dovrete semplicemente attraversare questa rocaille questa gem duo questa rocaille e ancora questa gem duo una volta qui che cosa andrò a fare semplicemente mi sposterò sul foro alto della mia gem duo e nuovamente farò lo stesso passaggio quindi prendiamo una rocaille 11.0 una gem duo mi raccomando il verso delle gem duo state sempre attende un'altra gem duo un'altra rocaille e infine un'altra gem duo e rocaille per un totale ricordatevi di quattro rocaille 11.0 e tre gem duo dopodiché andiamo ad inserirci nel foro dal verso opposto della nostra gem duo e tiriamo bene il nostro filo in questo modo qua vedete ci si è creato un nuovo modulo proseguite così creandovi 23 modulini ora che cosa andiamo a fare andiamo nella parte bassa quindi andiamo a lavorare in verticale come faremo a lavorare in verticale come potete vedere noi abbiamo chiuso quindi abbiamo pubblicato l'ultimo modulino normalmente ma che cosa faremo adesso adesso semplicemente anziché uscire come prima da questa gem duo qui ci sposteremo fino ad arrivare qui quindi sulla quarta fondamentalmente partendo da qui scusate gem duo e con l'ago mi sposto all'interno del foro alto fino a trovarmi ad uscire da questa da questo foro qua una volta che esco da qui però lo stesso passaggio ovvero quattro rocaille 11.0 e tre gem duo con questa sequenza semplicemente mi inserirò nuovamente all'interno del foro della gem duo ovviamente questa lavorazione si può fare torno a ripetere anche con due aghi se siete esperti di questa tecnica o insomma siete già a un buon punto con la vostra esperienza con le berline potete tranquillamente proseguire con due aghi e quindi lavorare con due aghi ovviamente questo vuol dire anche lavorare e procedere molto più velocemente ma tranquille perché appunto non è ancora al non ha ancora tutta questa esperienza con le berline tranquillamente potete dire proprio come vi sto facendo vedere io bene tornando alle nostre berline che cosa andiamo a fare vedete mi trovo ad uscire proprio dalla parte opposta quindi da questo foro qui ora che cosa andrò a fare semplicemente attraversiamo queste perline fino a trovarci ad uscire da questa gem duo una volta trovateci qui andiamo ad inserirci nel foro alto della gem duo e nel senso opposto andiamo a ripetere lo stesso passaggio quindi entrate all'interno delle rocaille 11.0 la gem duo e proseguiamo tirando bene ovviamente sempre il filo mi raccomando il filo è molto importante in questa fase perché appunto torno a ripetere sarà proprio ciò che creerà la struttura del nostro stringo quindi vedete esco da questa gem duo mi inserisco all'interno della rocaille e anche della gem duo successiva e poi mi fermo non entro anche nella rocaille successiva ma solo fino a qui ora tiriamo nuovamente bene e adesso che cosa andremo a fare semplicemente andremo a ripetere i passaggi di prima quindi attenzione attenzione un attimino qui a questo passaggio mi sposto sul foro alto della nostra gem duo in questo modo qui tiriamo bene e proseguiremo sempre con la stessa sequenza una rocaille una gem duo una rocaille una gem duo un'altra rocaille una gem duo e ancora infilire una rocaille 11.0 e con tutta questa sequenza di perline mi vado ad inserire sul foro della nostra gem duo nella parte alta senso opposto e tiriamo bene e adesso torniamo a ripetere gli stessi passaggi che abbiamo fatto per la parte alta quindi torneremo su questa gem duo ovvero come se fosse quella iniziale quindi andremo ad attraversare tutte queste perline fino a trovarci ad uscire da questa gem duo qui da questo foro qui e una volta arrivate qui ci sposteremo nel foro alto della gem duo in senso opposto continueremo con l'inserimento delle nostre gem duo questo fino ad arrivare a fare la stessa cosa anche nella parte bassa ovvero speculare il giro è terminato ragazzi e adesso andiamo ad unire i due modulini in che modo? in questo modo qua inseriamo sul lago quindi dicendo qui mi raccomando da questa parte qui una rocaille 11.0 una gem duo un'altra rocaille 11.0 e basta dopo di che con questa sequenza di perline andrò ad inserirmi nella gem duo che si trova in basso quindi sull'altra sequenza di modulini e tiriamo bene questo sarà lo stesso passaggio quindi questo passaggio qui sarà uguale per tutta la lavorazione quindi che cosa andiamo a fare? semplicemente andiamo ad inserire una gem duo sia qui che qui in questo modo qui vedete è molto molto semplice inserendoci in questa gem duo ci troviamo con il nostro filo praticamente dall'altra parte una volta qui ripeteremo lo stesso passaggio quindi una rocaille 11.0 una gem duo ed un'altra 11.0 e dove andiamo ad inserirci con questa sequenza di perline? semplicemente sempre nella gem duo di partenza quindi qui questo sarà il passaggio ripeto che andremo a fare per tutta la lavorazione fino a quando ci troveremo ad inserire i modulini vedete in questo modo noi avremo praticamente tre righe, tre modulini vedete in verticale uno, due e tre ora che cosa facciamo? ripetiamo lo stesso passaggio quindi rifacciamolo un'altra volta insieme vedete in questo momento io esco da questa gem duo andrò ad inserirmi nella rocaille, nella gem duo, rocaille, gem duo ed ancora nella successiva rocaille che incontriamo tiriamo bene il filo quindi anche in questa entriamo anche nella gem duo questa in mezzo usciamo senza entrare nella rocaille in questo modo qui tiriamo sempre bene e cosa facciamo? ci spostiamo nel senso opposto quindi nel foro alto nel foro alto una volta trovata mi qui in questo punto qui ricomincerò con che cosa? con le rocaille ma attenzione non dobbiamo più inserire ovviamente una gem duo qua ma soltanto dall'altra parte quindi inseriamo la rocaille mancante qui tra la gem duo questa gem duo e questa uscendo da qui che cosa andremo a fare? semplicemente andremo a prendere una rocaille 11.0, una gem duo, una rocaille 11.0 e ci inseriremo in questa rocaille o in questa gem duo studiate qui quindi vedete guardate in questo modo qua adesso prendiamo la rocaille 11.0, una gem duo mi raccomando sempre attente al verso, un'altra rocaille 11.0 e di nuovo all'interno della gem duo verso l'alto verso l'alto questa qui, tiriamo bene, una volta che noi abbiamo tirato e creato nuovamente un altro modulino che cosa succederà? ci mancherà semplicemente una rocaille 11.0 che andrà a completare il modulino vedete? proprio questa rocaille 11.0 qui, questa qui quindi vado ad inserirla e di nuovo all'interno della gem duo in questo modo qua, tiriamo bene e voilà abbiamo già i nostri due modulini ma soprattutto iniziamo già ad unire tutti i modulini sia in orizzontale che appunto in verticale e questa sarà la forma del nostro stringo magico, proseguite così per tutta la lavorazione ricordatevi mi raccomando sempre le rocaille 11.0 che vanno inserite per unire i vari punti noi ci vediamo tra poco dove iniziamo a tirare su la nostra struttura eccoci qua ragazze, siamo pronte per unire i nostri modulini come potete vedere qui ho finito tutta la parte, anche la parte diciamo destra quindi adesso andiamo a crearci il nostro ultimo modulino ovvero il ventiquattresimo vedete? dobbiamo semplicemente andare a unire la fascia quindi a tirarla in questo modo praticamente il passaggio sarà sempre lo stesso quindi vi spiego il primo punto dopo di che proseguite da sole che cosa dobbiamo fare? usciamo da questa gem duo, vedete mi sono già spostata nel foro alto diciamo della gem duo usciamo da qui e metto sul lago una rocaille 11.0, una rocaille gem duo, una rocaille 11.0 scusate e un'altra rocaille 11.0 quindi le stesse perline come sempre dopo di che con questa sequenza che cosa andrò a fare? andrò ad inserirmi nella gem duo sul lato opposto della nostra fascia spostandomi all'interno del foro tiriamo bene il nostro filo e vedete che iniziamo già a congiungere le due parti e nella parte alta quindi lo stesso inserimento rocaille 11.0 gem duo rocaille 11.0 e con l'ago risposto all'interno del foro della gem duo in questo modo qua tiriamo bene il nostro filo e voilà vedete che le due parti stanno iniziando a congiungersi ora noi che cosa dobbiamo fare in questo momento? rientreremo praticamente nella gem duo ci sposteremo in questa parte qua quindi in questo foro qui e dopodiché continuiamo ad inserire una rocaille 11.0 qui un'altra rocaille qui dopodiché andremo ad inserire la gem duo rocaille rocaille e sempre così per tutta la parte verticale quindi dovrete in totale inserire ancora una gem duo qua e una qua e dopodiché le due parti si saranno appunto unite noi ci vediamo tra pochissimo dove iniziamo proprio a creare la struttura del nostro scrigno magico una volta che abbiamo congiunto le due parti il risultato sarà proprio questo vedete? quindi semplicemente ci risulterà questa forma qui che cosa dobbiamo fare? è arrivato il momento di inserire le perle da 6 mm ora fate questo passaggio una volta concluso l'ultimo motelino portatevi ad uscire da un foro alto delle gem duo ora inizieremo a dare la forma quadrata fondamentalmente al nostro scrigno magico che cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare questa sequenza qua tra una gem duo e un'altra aspettate che avvicino tra una gem duo e un'altra quindi vedete? questo lo faremo sia per la parte alta che per la parte bassa andiamo a prendere una perla da 6 mm e la inseriamo ovviamente qui tra una gem duo e un'altra per realizzare la forma quadrata che noi vogliamo avere che cosa dobbiamo fare? dobbiamo inserire 6 perle tonde tra una gem duo e un'altra una volta inserite le 6 perle ne saltiamo un pezzo quindi queste gem duo qua e come qui noi non inserissimo niente lo lasciamo proprio così passiamo in entrambe le gem duo e dopodiché continuiamo con 4 perle adesso vi faccio vedere come come potete vedere qui ho inserito 6 perle da 6 mm ora che cosa facciamo? non entriamo nello successivo giro anziché inserire nuovamente una perla da 6 la salto e mi inserisco direttamente nel foro della gem duo ora una volta uscita da qui tirato ovviamente bene il filo che cosa dobbiamo fare? dobbiamo proseguire sempre con l'inserimento delle perle da 6 ma per un totale questa volta di 4 quindi inserite 4 perle tonde negli spazietti successivi dopodiché vi fermate e fate lo stesso passaggio quindi del gem duo senza nulla sul filo inserite direttamente sia in quella successiva sia quella da dove state uscendo che in quella successiva quindi come qui lo stesso passaggio una volta completato anche quel passaggio che cosa dovete fare? dovete semplicemente iniziare ad inserire nuovamente 6 perle tonde una volta inserite anche le 6 perle tonde dovrete ripetere lo stesso passaggio quindi uno spazietto e nuovamente altre 4 perle questo per creare proprio la nostra forma come dicevo all'inizio quadrata il risultato è proprio questo adesso ripetiamo un attimino i passaggi insieme in modo da dare che sia chiaro per tutti voi quindi noi che cosa dobbiamo fare quando ci troviamo sulla superficie alta quindi qui sulle gem duo dobbiamo inserire 6 perle da 6 mm dopodiché qui nelle gem duo passiamo quindi non ci mettiamo non mettiamo niente sul lago ma semplicemente ci inseriamo in questo gem duo proseguiamo con l'inserimento di altre 4 perle da 6 mm successivamente ci inseriamo nelle 2 gem duo quindi uniamo le 2 gem duo qua nell'angolino proseguiamo come dall'altra parte specularmente quindi 6 perle e nuovamente altre 4 perle sempre ricordatevi di unire le 2 gem duo negli angoli per poter avere appunto questa forma qua questa parte qui voi dovete farla sia per la parte alta che sotto quindi adesso che cosa dovete fare rimforzate mi raccomando i tirate bene per unire questa parte qui e dopodiché spostatevi camminando nelle gem duo fino a trovarvi dall'altra parte quindi qui dove rispettando la sequenza delle perline di sopra per renderlo la stessa cosa anche sotto e noi ci vediamo tra pochissimo dove iniziamo a realizzare ovviamente il coperchio sia per sopra che per sotto eccoci qua ragazzi questo è il nostro risultato quindi questo è il nostro scrigno magico come potete vedere si presenta in questo modo qua una volta che voi avete inserito le 6 perle sia nella parte superiore che nella parte inferiore quindi qui e 4 laterali vedrete che otterrete proprio questa forma qua adesso non ci resta che decorare il nostro scrigno magico come decorarlo? come potete vedere io in questo momento ho inserito il mio fireline vedete sono qui su questo angolino qui e proseguirò con il fireline come fireline sto utilizzando uno 0,17 ho tagliato il filo dry mosculati riferendomi a utilizzarti alle perline nelle gem duo e dopodiché l'ho tagliato ho inserito nuovamente il filo fireline facendo un nodino e partendo proprio da questo angolino e adesso prendete le vostre rocaille 0 e le perle da 3 mm e andiamo subito a decorare le nostre superfici esterne come potete vedere in questo momento con il mio fireline sto uscendo da questa rocaille che cosa andrò a fare? semplicemente ogni volta che incontro questo fiorellino qui andrò ad inserire una perla da 3 mentre in questa parte andrò ad inserire le rocaille da 8.0 ora procediamo così vi rendete conto di quello che sto dicendo ecco quindi prendiamo la nostra perla da 3 mm e andiamo a spostarci nel senso opposto della rocaille quindi vedete in questo modo qua uscendo da questa rocaille torno indietro inserendomi all'interno della perla da 3 mm vedete in questo modo qui e mi inserisco sempre nella stessa rocaille ma in senso contrario rispetto a come sono entrata quindi vedete io sono entrata da qui con la mia perla adesso vado ad agganciarmi proprio dall'altra parte quindi qui in questo modo vedete? tiriamo bene e vedrete che su questa superficie su questo angolo ci si sta già creando questo fiorellino ora che cosa dobbiamo fare? dobbiamo semplicemente entrare anche all'interno della nostra gem duo quindi subito sotto la rocaille e una volta qui sotto che cosa andrò a fare? semplicemente vado ad inserirmi anche nella rocaille sotto e vado ad inserire 3 rocaille 8.0 in questo modo qua vedete? 3 rocaille 8.0 e con questa sequenza di rocaille 8.0 mi vado ad inserire nella rocaille subito dopo quindi quella che si trova dalla parte opposta della nostra gem duo quindi qui si crea proprio un picot qui sotto la gem duo una volta che noi usciamo ci proviamo ad uscire sempre dallo stesso punto quindi dove incontriamo il nostro modulino che cosa andiamo a fare? andremo ad inserire una perla da 3 mm e ci inseriamo sempre nella rocaille che incontriamo nel senso dall'altra parte vedete? in questo caso io esco da questa e andrò ad inserirmi con la mia perla da 3 mm proprio qui in questo punto qui vedete? in questo modo qua tiriamo bene il nostro tiro usciamo da qui e nuovamente ci inseriamo all'interno della perla da 3 mm qui una volta fatto questo passaggio vedete che mi trovo ad uscire sempre nello stesso punto ma che cosa andrò a fare? semplicemente andrò a spostarmi all'interno della rocaille dalla parte opposta proseguiremo anche all'interno della gem duo su un'altra parcia ad uscire da questa rocaille 11.0 facciamola ancora un'altra volta insieme dopodiché dovrete proseguire così per tutte e quattro le superfici esterne del nostro scrigno quindi adesso che cosa facciamo? esco da qui, tirate bene il filo e vedete che la perla da 3 mm è aderito perfettamente al nostro fiorellino quindi adesso entriamo anche nella gem duo e nella rocaille che incontriamo subito dopo proprio in questo punto qui adesso prendiamo nuovamente altre 3 rocaille 8.0 e con tutta la sequenza vi sposto sulla successiva rocaille 11.0 in questo modo qui tiriamo bene il nostro filo e voilà abbiamo creato un nuovo picot qui nella parte bassa e di nuovo una perla da 3 mm sempre nello stesso modo esco da questa rocaille col filo, vedete che da questa rocaille 11.0 parlo di inserirmi nella rocaille che si trova dall'altra parte, solo nella rocaille usciamo da questa rocaille 11.0 e nuovamente faremo lo stesso passaggio rientriamo e ci spostiamo dalla parte opposta fino a trovare la successiva rocaille attraverseremo la gem duo fino a trovarci nuovamente qui in questa rocaille ed inserire le 3 rocaille 8.0 proseguite così per tutta la superficie e noi ci vediamo una volta che avete finito dall'altra parte quindi ci troviamo qui per andare a collegare questo picot con la parte bassa della gem duo e proseguire con l'intera decorazione una volta completato anche questo inserimento il risultato, vedete, è proprio questo ora che cosa dobbiamo fare? quando arriviamo alla fine dell'ultimo modino che abbiamo inserito delle ultime rocaille 8.0 e il fiorellino vedete in questo punto che cosa dobbiamo fare? dobbiamo semplicemente uscire seguite questo passaggio noi dobbiamo uscire da questa rocaille 11.0 e inserirci sulla gem duo quindi in questo modo qui vedete? ora uscendo da questa gem duo dobbiamo inserirci anche all'interno di questa rocaille 11.0 praticamente proprio sotto al picot che abbiamo creato con le 8.0 in questo punto qua una volta che mi trovo ad uscire da questa rocaille che cosa andrò a fare? semplicemente andrò ad inserire una rocaille 8.0 e con questa rocaille vado ad inserirmi proprio sulla punta delle rocaille 8.0 quindi su questa qua tiro bene il filo vedete? in questo modo e nuovamente un'altra rocaille 8.0 una volta uscite proprio subito dopo con questa rocaille andrò ad inserirmi all'interno della rocaille 11.0 ora dobbiamo proseguire sempre in questo modo anche per l'inserimento delle perle da 3.0 vedete? noi praticamente qui in mezzo andiamo a creare questa X uscendo da questa rocaille andiamo a prendere una perla da 3 mm e ci inseriamo nella rocaille dall'altra parte quindi in questa qua vedete? in questo modo qua tiriamo bene il nostro filo e torniamo a ripetere lo stesso passaggio di prima quindi inserisco nuovamente nella perla tornando indietro nella rocaille fino ad uscire praticamente da questa rocaille dalla gentuo e successivamente dalla rocaille vi conviene a questo punto entrare perlina per perlina perché ormai la lavorazione è veramente molto compatta quindi ora che cosa facciamo? entriamo nella rocaille 11.0 questa sotto uscendo andremo ad inserire una rocaille e con questa rocaille 8.0 andiamo a prendere questa qua centrale del picot e nuovamente uscendo andiamo a prendere una nuova 8.0 di nuovo nella 11.0 per la da 3 e via dicendo questo fatelo per tutto il giro proseguite in questo modo anche per la parte sottostante quindi la decorazione prosegue sempre in questo modo e noi ci vediamo una volta che abbiamo finito di decorare grazie a tutti